Il cuore conosce la propria amarezza e alla sua gioia non partecipa a un estraneo. Oggi sei triste per qualche motivo? Nessuno capisce quello che hai nel cuore? La vita è così. Questo è quello che dice Salomone nel versetto di oggi. Solo tu conosci la reale dimensione delle tue gioie o dolori. Il cuore è uno scrigno chiuso, nessuno può aprirlo. Pertanto è necessario accettare la realtà della vita senza aspettare di essere capito. Ma Dio non ti ha abbandonato in questo mondo per portare da solo la tristezza che spesso riempie la tua vita. Gesù dice venite a me, voi tutti che siete affaticati, oppressi e io vi darò riposo. Gesù è un rifugio per chi è angosciato e per chi è triste, conforto per gli afflitti, speranza per i disperati, sicurezza per chi vive nella paura. E' possibile che in questa vita nessuno ti comprenda. Ti giudicheranno per il tuo aspetto e non per il tuo cuore. Saranno impressionati dal tuo titolo di studio e non per la disposizione interiore che hai nel combattere e crescere. Se stai fermo, in attesa di essere compreso da altri, sprecherai la tua vita in lamenti e reclami e quando aprirai gli occhi il tempo sarà passato. Oggi accetta la sfida di costruire la vita in un modo diverso. Fai meno affidamento sugli esseri umani e più su Dio. Quando le frecce dell'incomprensione umana appaiono inaspettatamente, nasconditi tra le braccia di Dio e raccontagli tutto. Lui non ignora la tua situazione, ma quando gli apri il cuore, il dolore diventa meno intenso, il peso più leggero, il buio meno denso. Permetti a Dio di essere il tuo amico ogni giorno. E' meglio andare con Lui nel buio che camminare da soli in pieno giorno, in attesa di essere compreso dalle persone. Invece di voler essere capito, cerca di capire. Invece di aspettare una mano, stendi la mano per soccorrere. C'è sempre qualcuno che ha più bisogno di te. La vita è così e forse per questo quel dolore non fa così tanto male. Quando oggi uscirai di casa, ricorda che il cuore conosce ogni propria amarezza e alla sua gioia non partecipa un estraneo. Buona giornata. Buona giornata. Grazie a tutti.